ciao a tutti e benvenuti nel mio canale a s m r allora da come avrete potuto notare dal titolo in questo video non farò nulla di particolare farò un po di movimento delle mani un po di mouth sounds un po di scratching sul microfono infatti poi dopo metterò il filtro quello che mi piace molto e nulla giusto per farci un po di compagni e rilassarci un po insieme spero comunque che vi piaccia prima di iniziare con il video volevo ricordarvi che se volete farmi un regalino per supportare il canale trovate il link della mia wishlist di amazon qui sotto nell'info box quindi se volete potete andare a dare un'occhiata io direi di non perderci in altre chiacchiere di iniziare subito con il video mi raccomando tu mettiti in un letto comodo segui il movimento delle mie mani e il suono della mia voce solo così ti rilasserai al cento per cento la mia significa è un po di formaggio la mia mani cado giusto o no 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 chiudi l'occhio cerca di liberare la mente da ogni pensiero negativo, ci sono io qua per te adesso rilassati immagina che io stia facendo i grattini sulla tua pelle rilassati 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 Io spero di non fare troppo casino. Ok, pensavo peggio. Chiudi l'occhio, chiudi l'occhio, chiudi l'occhio. Chiudi l'occhio, chiudi l'occhio, chiudi l'occhio, chiudi l'occhio, chiudi l'occhio. Chiudi l'occhio, chiudi l'網 A cosa che cerchella sarà di tacberspania, chiudi l'occhio. Chiudi l'occhio, chiudi l'occhio. a me piace troppo questo suono veramente e nulla ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto nel caso in cui fosse così vi invito a mettere un mi piace un commento e ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto attivando mi raccomando la campanellina così non vi perdete le notifiche dei nuovi video io spero che vi abbia fatto un minimo rilassare ovviamente vi aspetto sotto nei commentini vi mando tanti miei capacioni vi auguro una buonanotte 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 e ci vediamo alla prossima ciao ciao buonanotte buonanotte